Viviamo in una regione straordinariamente bella ed estremamente attrattiva dal punto di vista turistico, una regione che è in grado di offrire tutto ciò che un turista possa cercare, arte, storia, cultura, gastronomia, paesaggio, musei, centri storici, teatri, rocche, castelli e tutte queste opportunità sono rappresentate anche nella provincia di Pesaro Urbino che ho avuto l'onore di presentare alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano insieme alle offerte più importanti che questa provincia è in grado di offrire, Rossini, Raffaello, la Mostra di Tiziano, la Mostra di Leonardo e Vitruvio, il Festival Internazionale del Brodetto, la Fanno dei Cesari, un'altra eccellenza della nostra provincia è anche il tartufo, noi abbiamo tre fiere nazionali del tartufo nella provincia di Pesaro Urbino a partire da Acqualagna che è anche un museo adesso che dà visibilità al tartufo tutto l'anno ma insieme ad Acqualagna abbiamo Sant'Angelo Invado, Pergola e anche la fiera regionale del tartufo di Apecchio. Sono tante le eccellenze, sono tante le opportunità, ringrazio gli amministratori e tutti coloro che sono stati presenti perché all'interno del brand Marche, del marchio Marche siamo in grado di offrire al turista grandi opportunità e grandi eccellenze, compresi i periodi di bassa stagione. Questa è una provincia che è in grado dal primo di ottobre al 6 gennaio di fare una seconda alta stagione perché prima partono le fiere del tartufo, della gastronomia e poi si concludono con i mercatini di Natale e la festa nazionale della Befana di Urbania. Ecco, queste sono le grandi eccellenze che siamo in grado di rappresentare, grandi opportunità. Turisti, venite nelle Marche, venite nella provincia di Peggio Urbino, non avrete di che pentirvi.